Siamo gente strana perché siamo stati piccoli negli anni 80 In testa un grande spuglio di idee ma ancora non capiamo cos'è Il terrore di bere il latte dopo il Cernobil Le caramelle dagli sconosciuti non le ho prese mai Siamo gente strana perché siamo stati piccoli negli anni 80 In testa un grande spuglio di idee ma ancora non capiamo cos'è Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una bottiglia che sembrava vero vomito La sera sono andata al cinema e ho nascosto la bottiglia nella giacca